fai ora ti insegnerà come fare delle tecniche di sopravvivenza con me l'onorezza scoglione vedete questo bellissimo team perdete le palle fai le puni e anche il pene e il pene a il pene a pluron vado a il pene a il pene per perdito il bello stella è la vila privato io ho paura io pure che veramente vai l'ho detto tu sei il nostro mito sto scherzando sto scherzando è il suo culo ma lo devi mettere su youtube il culo di lorenzo è enorme il culo di lorenzo è veramente il rumore del claxon il culo di lorenzo è veramente il culo di lorenzo è sguardo un pietro così si è sentito il rumore del claxon ma ora doveva scendere aveva detto io mi vado a sentire il disegno dello scheletro viola chissà cosa succederà su questo scheletro viola ma sei alla villa per i pato allora per ultima cosa alla villa per i pato ora mi scenderò la pesca non vuole la carica devi allora mi devo sussare mi devo sussare mi devo sussare salta direttamente di cosiè no scendi da culo no non so non mi lo sussi vola come hai fatto 200 anni fa a te via salta salta ragazzi ho paura lasciate un bel mi piace per questa cosa abbastanza pescina se mi presentate il muoio che bastardo dai su coppa sua se avete lasciato un bel mi piace possiamo saltare giù allora vedete se mi piace a posto pollice dai la re lasciate un bel mi piace per partito di posto oh ah allora va avanti eh lasciate un bel mi piace e un commento ah ah ragazzi la cosa estrema siamo riusciti a superarla lasciate un commento e un mi piace oh da un'ora che lo sto studendo se non siete ancora iscritti iscrivetevi lasciate un bel commento vaffanculo lasciate un mi piace un commento e iscrivetevi al canale ci vediamo nel prossimo video bene ragazzi